Prova a picchiare fortissimo, è il secondo ace della sua serata. Vlad Davischiba fa 9.14, costringe Milano al secondo discrezionale. Con Vitelli che torna a servire, sempre su Mar, buona la ricezione, si sceglie la pipe di Davischiba. Punto Monza. Prova a rispondere Milano col primo tempo di Loserpa, la che torna indietro. Porro sceglie Scicaba, palla molto bassa, Scicaba prova a colpirla come può, gli torna indietro al doppio della potenza. 2-1 Monza. Cercare Davischiba, chiude la pipe, arrivando dalla seconda linea. Cercare dall'altra parte Davischiba, passa questa palla. Quindi in questo match, qui un altro servizio che ha messo in difficoltà. Monza che comunque con Davischiba riesce a trovare il punto. Galassi che deve cambiare mano ma non chiude. Milano può incidere con Ishikawa, ma recupera. Vediamo dove va Zimmerman, sceglie Davischiba, il muro a due lo aspetta, passa Davischiba sul muro basso di Porro. E Pesaresi deve regalare la free goal. Può gestire l'albero volley, Zimmerman sceglie Mar, si immola Ishikawa, Federici la deve tenere viva. Zimmerman sceglie Davischiba, palla spinta. La lascia cadere Ishikawa perché non ci può arrivare, ma la palla è sulla linea e quindi punto Monza. Grazie. Grazie.